... ... ... ... ... ... ... ... ... Chiara hai preso la banderina? Quinta. Quinta... Chi ha preso la bandiera? Ha detto Massimo che ci sono due bandierate, qua. Allora, la Beatrice c'è stata pronta prima. No, non c'è qua la Beatrice è oggi. La Beatrice è quella ragazza giovane, che ha vent'anni. No? No, io e la Veronica? Allora non conosco. La Beatrice è, diciamo... Hai i capelli cosi? Una protetta di doni. Due ragazze, si. Io ho finito ieri sera il mio secondo kg di pasta, sono arrivata tra l'altro. Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. Le prove, le prove. 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 Le prove, le prove, le prove. Le prove, le prove, le prove. Le prove, le prove. Le prove, le prove, le prove, le prove. Le prove, le prove, le prove, le prove. Le prove, le prove, le prove, le prove, le prove. Grazie a tutti 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 Mesa 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 Grazie a tutti Mesa 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 Che darse? Arrivano anche per i due, tre. Che darse eh? Per i tre, il quattro arriva la temporale. Se non gira. Forse anche il primo. Sì? Sì, bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Go! Grazie a tutti. 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 Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Mesa! 20 a 30 o poi si va a fondo, non so come si va a fondo, nessuno mi rispetta, dimmi che c'è le grandi navi. No vabbè le grandi navi però ha riscattato l'altro eh. Ma è messo a passare, si deve pescare, si deve passare a camina destra. Spenta, spenta. La barca non si è neanche mosso, si ma è sposta acqua, lo stesso sotto acqua. L'onda è sposta sotto acqua, è sposta tantissimo eh. Le masse, cioè non fa l'onda, l'onda in superficie non fa perché va piano, si ferma praticamente. Ma prova a immaginare la massa di acqua che si porta sotto. Mesa! 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 a a a a a a a Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì.